ciao a tutti e benvenuti a seo confidential da frank pagano e benvenuti anche da pierangelo soldadini abbiamo una puntata speciale oggi all'insegna di arte leadership abbiamo con noi un vero e proprio maestro prego alla regia di mandare la scheda introduttiva senti luca benvenuto a seo confidential tu non hai bisogno di presentazioni ma io la domanda di rita te la devo fare chi sei e cosa fai nella vita allora io mi chiamo luca zingaretti faccio principalmente l'attore da un po di tempo cerco di fare anche altro cerco di occuparmi anche di creatività come produzione sto cercando anche di scrivere il mio film come regista mio primo film complimenti e benvenuto di nuovo senti racconti brevemente di the king che la la tua ultima serie e ti chiedo anche che a che cos'altro stai lavorando se puoi approfondire sì allora la nuova serie sky che si chiama il re è la storia di un carcere di massima sicurezza e del suo direttore buono testori che lo comanda e lo governa come un monarca assoluto a questo direttore è stata data una missione che è quella di capire dal suo punto di vista privilegiato che è quello eh delle carceri che cosa bolle in pentola e di riferirlo alle a chi di dovere alle autorità competenti questa sua missione diventa però un'ossessione che lo schiaccia gli fa perdere la bussa e a un certo punto questo nome si trova appunto solo senza i suoi punti cardinali che di solito eh governano e guidano il nostro agire ehm per quanto riguarda invece quello a cui sto lavorando sto lavorando alla ideazione allo sviluppo e alla scrittura di di un progetto per il cinema che è quello che dicevo prima come che mi dovrebbe vedere come dietro la macchina da presa e poi anche di due serie tv pensate sempre non solo come 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 regista in questo caso ma come anche attore ecco Luca comunque tu stai diversificando la tua attività dicevi eh però per noi rimani comunque prevalentemente un attore ecco il tuo essere attore è un unico lavoro è un'unica professione o ha diverse eh sfaccettature e poi ti chiederei di capire qual è il tuo approccio al lavoro ma diciamo che il lavoro dell'attore è in senso più lato io almeno lo considero come un narratore è una persona a cui è delegato il compito di raccontare delle storie a volte queste storie riesce a scegliessere a volte addirittura a scriversele ma comunque diciamo che il suo specifico è quello di saperle raccontare io quando parlo a volte mi succede con degli allievi dico sempre se c'è qualcuno che racconta una barzelletta e ci fa ridere molto e qualcun altro che ci racconta la stessa barzelletta e ci lascia indifferenti è perché il primo è stato bravo a mettere gli accenti giusti nella storia e il secondo un po' meno ecco l'attore è un po' quello che decide dov'è l'accento di una storia ehm il mio approccio al al lavoro è spesso e volentieri quasi sempre maniacale perché io amo il mio mestiere e mi gratifica farlo bene è sempre stato un elemento un po' fondamentale direi della mia vita e quasi potrei definirlo identitario ehm e poi ripeto la mia grande soddisfazione di cercare di farlo bene prima di tutto perché non voglio essere preso mai in castagna e poi perché il risultato di un lavoro ben fatto sono gli applausi che sono una cosa bellissima e che fanno un gran piacere ecco diciamo che è un modo per farsi voler bene ecco senti il cinema è comunque un mondo che fa sognare racconta storie e fa sognare le le persone manda dei messaggi ma noi a noi piace parlare molto anche di tecnologia allora oggi si parla di metaverso di mondi virtuali di nft di cose un po' sconosciute ancora ma sempre nell'ottica del digitale spinto del virtuale cosa vuol dire allora invece fare l'attore di teatro oggi un teatro fisico con parti reali? ma guarda io in questo preciso momento storico non scommetterei tanto su quelle prime cose che hai detto te perché appunto essendo in qualche modo nate figlie della tecnologia la tecnologia evolve continuamente quindi oggi ci sono magari domani inventeranno qualche altra cosa mentre invece scommetterei sul teatro io penso che il teatro soprattutto in questo momento ha un grande futuro proprio perché il mondo sta andando nella direzione opposta però il fatto di andare tutti insieme in un luogo a celebrare un rito perché questo il teatro è stare tutti insieme emozionarsi tutti insieme partecipare appunto a un qualcosa che avviene in quel momento inc e nunc aver voglia di vedere un nostro simile sbracciarsi sputare sudare dal vero e poi entrare in comunanza con altre persone partecipare a qualcosa che avviene lì in quel momento e che non è più ripetibile secondo me è una cosa che attrarrà sempre di più persone non voglio fare non voglio essere eccessivamente positivo ma insomma mi sembra che dopo la fine della pandemia insomma diciamo su questa coda di pandemia le le uniche cose piene oltre ai ristoranti sono i teatri e questo mi fa ben sperare perché perché il teatro è non solo una cosa meravigliosa ne parlo io da attore che lo faccio ma credo che sia anche un po necessario proprio perché mette l'accento sulla comunanza di certe cose ripeto tutto insieme lì il cinema non è la stessa cosa sì si va in una sala buia si sta lì tutti insieme ma quello che vede è un qualcosa che è stato preparato prima mentre invece il teatro è qualcosa che avviene lì in quel momento e che dipende dalle persone che stanno nel teatro insieme a te ecco il teatro qui in questo momento dobbiamo tener conto di un contesto che non è che non è semplice allora cosa vuol dire oggi in questo contesto fare l'attore mettersi nei panni di un'altra persona di un altro personaggio ma per me fare l'attore sempre sempre costituito un uno strumento di conoscenza cioè cercare di capire i motivi delle azioni delle persone per poi restituire quelle del personaggio che va a interpretare io non credo che sia come dire molto modificata la figura dell'attore sia molto sia molto diverso da altre epoche sono semmai diversi racconti che si fanno la situazione che si vive diciamo il contesto ma se proprio la vogliamo dire e vogliamo intendere l'attore come una figura che si muove nell'ambito dell'intellettuale della società direi che si porta dietro una grande responsabilità nel momento in cui si pone l'obiettivo di raccontare delle storie che gli piacerebbe sentire e sentirsi raccontare allora lì decidi come interagire come interagire con la società cioè che storie raccontare quali no uscendo dal dal personaggio dall'attore come personaggio pubblico come intellettuale che ruolo ha oggi questa figura di fronte a un mondo a una situazione in cui in cui comunque si vive una grande incertezza una grande insicurezza a livello sociale ma guarda io credo che l'insicurezza e l'incertezza si vive perché con l'accesso fintamente democratico di tutte le persone a per esempio penso a strumenti come i social ha fatto sì che si perdesse un po il senso di dell'autorevolezza di quello che si diceva oggi appunto abbiamo visto anche nella pandemia e la persona arrabbiata e che non sa niente di virus o di medicina alla stesso valore la stessa valenza la sua parola di quella di una persona invece che è più deputata perché ha studiato perché ha una formazione perché ha una laurea perché pane per i suoi denti quindi in questo momento qua secondo me e l'intellettuale deve proprio cercare di separare il grano dal miglio cioè cercare di far capire che delle cose sono delle opinioni altri sono dei fatti e fornire al mondo una visione diversa delle cose non è facile non è per niente facile perché questo significa dover parlare a dover far crescere il proprio auditorio ma insomma io penso che il compito dell'intellettuale oggi è di tenersi ancorati ancorata ai fatti e cercare di far ragionare le persone mi sembra che ci sia una grande ventata di razionalità nel mondo per ovvi motivi soprattutto per la paura perché l'irrazionalità è sempre frutto della paura così come la violenza luca una domanda sulla leadership nella tua carriera ha interpretato leader favolosi se dovessimo tirare un sommario quasi quali sono le caratteristiche del leader del domani di domani e se ti posso chiedere giusto per curiosità qual è il leader che ti è piaciuto veramente impersonare come attore ma diciamo che io ho sempre amato i ruoli da leader che ho interpretato che per un motivo per un altro mi hanno fatto sentire un po inadeguato credo che sentirsi inadeguato di fronte a un esempio di vita soprattutto se erano personaggi realmente esistiti è quello che ti fa sentire veramente la grandezza del personaggio e quindi cerchi in qualche modo di restituirla per quanto riguarda invece la prima domanda è un po dura da dire in tempi di guerra però io sono convinto che il leader di domani è quello che sarà in grado di immaginare il futuro al di là delle sue competenze specifiche e che sarà capace di usare una cosa che insomma non forse a una prima cosa sembra non incentrare niente invece secondo me è molto importante che è la gentilezza gentilezza intesa in tutte le sue declinazioni e significati chiarissimo senti una domanda leggermente più personale secondo te qual è la tua disruption qual è l'elemento di rottura che tu hai portato nel tuo mondo guarda nel mio mestiere per essere appunto per operare una disruption non è necessario guardare al futuro necessariamente al futuro come invece in tanti altri campi penso per esempio appunto alla tecnologia per me per essere innovativi nel teatro io mi ricordo quando ero ragazzo che c'era chi c'era il teatro di parola poi c'erano delle persone che facevano il teatro d'avanguardia ma il teatro d'avanguardia della serie famolo strano nasceva soprattutto da un'incapacità di riuscire a leggere un testo nei suoi significati più reconditi e di restituirlo al pubblico e allora si faceva in romano si dice se buttava in cacciara cioè si faceva dicendo ma io non è che non so capace che lo faccio strano perché sono avanti ecco nel mio campo spesso e volentieri per fare le cose fatte bene più che guardare avanti devi guardare indietro come si facevano le cose una volta quando c'era più tempo per prepararsi quando c'era più tempo per fare la gavetta quando non si correva sempre comunque quando non si voleva si pretendeva sempre tutto perché a volte la vera disruption è fare le stesse cose fatte meglio benissimo senti in questo spazio sia o confidential abbiamo identificato quattro filoni di cambiamento uno tecnologia due sostenibilità tre marketing o comunicazione se vuoi quattro mindset mentalità se avessi soltanto una scelta qual è la cosa di cui abbiamo bisogno per cambiare il mondo guarda io penso che mi piacerebbe vedere al centro del nostro agire la sostenibilità magari aiutata dalla tecnologia e in un processo gestito da leader capaci e come dicevo prima gentili forse se dovessi invece che dirne una rinunciare a una di queste cose che hai detto direi che forse di marketing ne abbiamo fatto anche troppo ecco senti luca anche tu hai parlato di innovazione abbiamo parlato di cambiamento qual è secondo te il principale ostacolo oggi al cambiamento ma intendendo cambiamento da un punto di vista individuale psicologico sociale o in genere ma in genere il cambiamento che stiamo vivendo tutti noi di fronte alla tecnologia a un mondo che va molto veloce e che a quale ci dobbiamo adeguare guarda io penso che la difficoltà nel cambiare e nel cambiare una direzione che io ritengo giusta perché non tutti i cambiamenti mi suscitano interesse la difficoltà a cambiare dipende dalle abitudini dalla finitezza delle risorse umane che ci spinge appunto a essere egoisti e quindi a non adeguarci a un cambiamento e poi last but not least l'egoismo dell'essere umano se noi non siamo ormai ormai la terra la natura ci pone davanti a degli interrogativi molto inquietanti per cui se non troviamo ma tutti insieme delle soluzioni il futuro dell'essere umano su questo pianeta non lo vedo così felice ecco se non cerchiamo una soluzione tutti insieme e che non sia la soluzione di adesso perché una parte del mondo è sempre più ricca e una parte che poi la maggioranza sempre più povera non so se augurarmi un cambiamento diverso da quello che dicevo prima senti parlato adesso di futuro non felice però c'è tutta una generazione di giovani che si sta affacciando al futuro e sta disegnando il proprio di futuro allora che consigli daresti a un giovane che sta appunto progettando il domani ti do tre possibilità guarda io gli direi quello che cerco di dire ogni giorno alle mie figlie cioè cercati un lavoro che ti piace perché una passione nella vita è se non tutto quasi tutto perché noi passiamo la maggior parte del nostro tempo a lavorare e quindi sarebbe auspicabile spenderlo in qualcosa che veramente ci aggrada la seconda è di alzare la testa e di concentrarsi più sull'orizzonte che non sulla punta delle proprie scarpe quindi allargare i propri orizzonti allargare il proprio spettro di di cose da vedere di riflessioni da fare e il terzo che mi sembra anche questo molto importante è di cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo vi è pieno perché sostanzialmente niente c'è dovuto io l'altro giorno parlavo con delle persone dicevo rispetto appunto alla guerra noi pensiamo ci siamo sempre a lamentare noi occidentali soprattutto noi italiani perché pensiamo come di aver diritto a qualcosa e questo non è vero ma in semine anche fatalisti e se vuoi anche molto semplicistici fossimo nati in ucraina adesso piangeremmo fossimo nati in un paese del terzo mondo saremmo ancora peggio quindi già il fatto che siamo nati in un paese come questo qua che non è perché adesso in pace ma perché un posto dove si vive bene dove c'è una cultura che ti fa star bene al caldo a al caldo delle parole che sono state dette e scritte da chi ci ha preceduto al caldo delle cose belle che ci circondano perché ci fa stare almeno la nostra generazione in una condizione di benessere ecco questo non riusciamo a dargli un'importanza e invece sarebbe giusto che i nostri figli che sono stati abituati a questo benessere non lo percepissero come un qualcosa di dovuto ma come un regalo a cui essere gradi e questo poi ci aiuta anche aprirci al prossimo sempre perché non ne faccio una questione religiosa ne faccio veramente una questione di convenienza se non troviamo una soluzione ai problemi che si presenteranno alla futura ma alle future generazioni non credo che ce la vedremo molto bene intendo come genere umano ecco con queste questi consigli questa la passione alla l'ottimismo al sapersi accontentare e valorizzare quello che abbiamo io ringrazio davvero luca zingaretti anche per quel suo invito a recuperare un atteggiamento che forse abbiamo dimenticato che è la gentilezza in questo tempo credo che sia davvero importante io ringrazio davvero per la sua di gentilezza per essere stato con noi oggi insieme a frank pagano ringrazio a tutti coloro che ci hanno sono stati con noi anche oggi e davvero grazie a un campione come luca zingaretti grazie a voi veramente grazie a voi